cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo si rinnova l'alta pressione che farà sentire i suoi effetti regalandoci una giornata di bel tempo il dettaglio di mercoledì 14 febbraio sul veneto sarà asciutto e stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino in pianura probabili riduzioni della visibilità localmente persistenti temperature stazionari e le minime saranno comprese tra 2 e 6 gradi massime tra 11 e 15 all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso ampio soleggiamento cielo in prevalenza poco nuvoloso o variabile per nubi medio-alte temperature minime tra 2 e 6 gradi massime sui 12 13 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige avremo anche qui un'alternanza tra sole e nubi ma con ampi spazi di cielo sereno temperature minime tra 3 e 4 gradi massime sui 15 16 gradi all'incirca dal meteo di antena 3 è tutto arrivederci cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori iscriviti al nostro canale